La filosofia è qualcosa di inaudito perché per la prima volta porta alla luce il senso del nulla come ciò che è contrapposto alle cose che costituiscono la totalità e non si tratta di un evento anche qui accidentale, sono appunto i primi pensatori greci e qui soprattutto Parmenide a pensare a questa distanza infinita che c'è tra ciò che è e l'assolutamente nulla, assolutamente nulla, non è l'assenza di qualcosa, quando io chiedo a uno che cos'hai e lui mi risponde non ho nulla, non ho niente, ma qui niente vuol dire l'assenza di un certo gruppo di eventi, tanti o pochi che siano e invece quando si parla di totalità delle cose e si contrappone alla totalità delle cose al nulla, qui il nulla acquista una radicalità che mai era stata sondata, pensata, ma anche qui saremmo fuori squadra se pensassimo che si tratta semplicemente di una invenzione teorica, no? Anche qui il rapporto tra questo significato, nulla e la vita è essenziale, perché chiediamoci, crediamo forse che sia la stessa cosa, morire senza sapere alcunché del nulla e invece morire sapendo o credendo che la morte sia un andare nel nulla e dunque in ciò da cui non c'è ritorno. Ecco, anche nel pensiero mitico i morti, quelli per esempio di cui parla Omero, fanno un viaggio verso un luogo da cui si ritorna e quindi l'angoscia della morte ha un grado che è infinitamente inferiore all'angoscia che si produce quando si pensa che il morire sia andare là da dove non c'è ritorno perché si è diventati niente. Perché? Proprio perché la filosofia è la responsabile dell'emersione di questo significato terrificante, cioè il significato del nulla, proprio perché la filosofia espone al massimo dei pericoli, il pericolo cioè che il dolore e la morte sia finire totalmente. Proprio per questo la filosofia sin dall'inizio si impegna a trovare un rimedio che non sia semplicemente un rimedio come poteva essere quello contro la morte del mito, la morte che accade nel mito, ma si impegna a un rimedio che si asommo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.